Ciao a tutti, ringrazio per la sfida il mio amico Marco Scafù e il mio amico Ciro Ferrara e a mia volta nomino i miei vecchi compagni di difesa Mauro Tassotti, Billy Costacurta e Franco Baresi un momento, ricordatevi di fare donazioni alle associazioni che lottano contro la SLA prego dai veloce grazie